Musica Non ho nei camerini di H&M e sto provando questa maglietta, non so perché mi piace Anche questa è molto molto carina Non lo so Dovinate con che sono? Strano Siamo da Tiger Guardate che bello Ovviamente io non comprerò niente No, è vero Non c'è più di contenermi ragazze Ma queste sono pantofole Ho forma di pelico Flamingo Oh mio dio Erika è alla scoperta di gingellini mu Oh mio dio Questi cosa vedi? Non so Come fai a vedere con questi? Vedi più la lente, la montatura che ha Stiamo per comprarci il microfono Ma... No, davvero Aspetta, io chiacomo Ci incidono Ma perchè entriamo qui dentro e ci trasformiamo come bimbi? Allora io e Erika torniamo a dodicenni quando si tratta di questa cosa Deve capire il meccanismo Ragazzi praticamente è già Pasqua Ok ragazzi siamo da OVS Abbiamo fatto uno piccolo spuntino con caffè Situations E abbiamo notato che ci sono un sacco di cose della Disney Questa non so perchè mi piace Però ragazzi ho già comprato una maglietta da E-Chener Ma adesso sono qui che vedo altre cose Mi viene da piangere perchè non posso prendermi nulla Comunque guardate cosa c'è qua Yes! Scusami No No vabbè Allora qua c'è se vuoi essere unicornosa E qua c'è london rosa se vuoi essere vintage o dreapur, no? Unicornosa No vabbè voglio andare in palestra con questa guys E dentro ci sono situazioni No vabbè Tipo questo sapone lo posso comprare glitterato Ragazzi con questo fantastico tramonto salutiamo il primo giorno di vlog E quindi ci vediamo domani con un altro pezzettino di vlog Che cosa devo fare domani? Non devo fare niente di speciale Ciao! 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 Ciao ragazzi Ciao! 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 Zaggo, bella! Ragazzi, oggi è lunedì! Allora ragazzi, non vuole essere ripresa, non posso riprenderla! Stiamo andando a fare una passeggiata al centro commerciale! Non sarà che non fa passare i pedoni! Ha vinto tutto! Oggi è lunedì, un nuovo inizio di settimana, una splendida giornata! Ovviamente stiamo guardando altri negozi perché non stiamo mai soddisfatte! Ragazzi! Sì, fatemi! E vai, guarda! Ciao ragazzi! Oggi è martedì e sto andando a farvi le unghiette finalmente dalla mia amica Giulia Lo vedo allora E devo ancora decidere come farle, credo sul naturale perché sono quelle un po' che adoro di più Qui c'è la energia wireless! Grazie per la visione!